che vigna, vigna, vigna tantissima vigna che gran sasso Allora, sai come sarà benissimo? Vino Allora, guarda, guarda, guarda Allora, guarda, guarda A 620, in treno SS80 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedi, qui sono tanti personaggi. Sì. Gabriele D'Annunzio. Sai chi? Sì, questo io so che è poeta. Poeta, poeta. Guarda che grandi piccioni. Ciao. 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 Piccelini. Piccelini, sì. Guarda che piccioni. Ciao. 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 ient'è Ciao. 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 健an's. Ciao. l'amicizia non vuole andare carino allora e che prezzi 200 205 pure in saldi madonna ma che saldi voi dove prendiamo 256 mi sembra bella ho pantaloni è chiuso ora vediamo questa è bellissima mi piace moda che voglia andiamo dai e che bello abito guarda anche questo mi piace ma io ce l'ho quasi pantaloni così e non si vede tanto e mi piace borsa dai prendiamo e i pantaloni neanche non costa tanto 45 guarda che bella abito piccate che io non metto lunghi abici guarda cosa è successo con la finestra dove? la terremoto vedi che tizzerozza un po' loro hanno fermato guarda che... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti